La villa comunale ha riaperto, come l'ha trovata? Bellissima, bellissima e bella, pulita e sistemata. Dovrebbe essere le persone a tenerla pulita. Quindi vuole fare un appello ai suoi cittadini? Che siano attenti, ai bambini, ai grandi, ai piccolini, che siano attenti. Perché è bello godere di uno spazio così? Così, 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 così bello, così pulito, fa piacere. Tutte le strade stanno più pulite, più sistemate. Questo ho detto stamattina a mio marito, ho detto veramente, sta facendo quello che doveva fare. E si vede, vero? Ci restituisce un po' di vivibilità. Sì, infatti, anche per noi anziani che andiamo facendo una passeggiata, magari uno si respira un po' di aria pulita, vero? Devo essere sincera, è proprio bella, ci voleva. È stata chiusa per un po' di tempo, però? No, però ne è valsa la pena, devo essere sincera, perché fino ad ora stavamo comunque andando al parco Bottazzi, però è proprio bella, grazie. Che miglioramenti ha trovato? No, sicuramente il parco giochi che ci voleva assolutamente nel centro cittadino, senza che comunque molte persone magari impossibilitate, non lo so, potessero arrivare un po' più fuori zona, insomma. Lei adesso porterà qui tutti i giorni i suoi bambini? Quando non lavorerò sì, sicuramente. Dopo alcuni interventi e lavori, finalmente la villa comunale è stata riaperta, come l'ha trovata? Bellissimo, bellissimo, un grande servizio questo per i bambini, eccola qua come infatti, per mia nipote, per tutti i bimbi, comunque è bello, veramente è bello. Che cambiamenti ha trovato? Tutto, pulizia, tenuta benissimo, comunque c'è pure la guardia, ho visto, c'è un bel servizio. Quindi c'è controllo? Sì. Prima mancava? Tanto. Sicuramente come stava prima adesso c'è una grande differenza, anche perché noi siamo cresciuti qua, siamo stati qua a tenere la villa in quelle condizioni che stava, era vergognoso. Perché? Come stava? Rovinata, distrutta, cioè proprio abbandonato. Non c'era niente per i bambini, ma neanche per le persone più grandi, per gli anziani. C'è escrementi di animali dappertutto, adesso è più vivibile. Adesso bisogna anche mantenerla così? Ah, questo sì, questo dipende da noi, giustamente, come si dice, non siamo tutti uguali, bisogna fare qualche controllo in più, qualcuno in più che guarda, bisogna tenerla per come sta. Molto cambiata. In meglio? In meglio, certamente. Lei porta qui i bambini? Nipotina. Come ha trovato la villa comunale? Bellissima, sono felicissima per lei, almeno ci sta una cosa di cui giocare, aria aperta, bellissima, sono molto contenta. Tutto ripulito e non manca anche il controllo? Bellissimo, complimenti. Complimenti al sindaco? D'accordo, sì. La villa comunale di Torre del Greco si rifà il look, lei che ne pensa? Ottimo e meglio, si può fare sempre di meglio, di più, no? Quello che necessita principalmente è una gestione più appropriata del luogo, con avere custodi giardinieri che dovrebbero fare l'uno e l'altro, anche per il risparmio e per la migliore gestione del luogo. L'ho trovata molto pulita innanzitutto e spero che questa cosa sia ben fatta e che rimanga. Anche l'area giochi? L'area giochi, sì, soltanto che le persone che hanno i cani voglio dire di fare un po' attenzione, di dare un'area riservata a loro e di fare attenzione a queste persone perché poi lasciare tutto sporco era incivibile. Ci sono anche nuove panchine? Nuove panchine per le persone più anziane che hanno tanto bisogno, di respirare un po' un'area magari più... Quindi un polmone verde vivibile? Un polmone verde che c'era bisogno nella città. Dopo un periodo di lavori hanno riaperto la villa comunale qui a Torre del Greco, lei come l'ha trovata? Super! Più bella? Più bella, più pulita e sistemata. Anzi, che prima di che stavano mattina che ci stavano. Che ci stavano? Cani che portavano qua come le pecorelle a pascolare. Adesso lei vede più ordine, più pulizia? Speriamo, penso che ci sia la guardia giurata, forse bisogna qualcuno dietro. Spera che si mantenga qui. Adesso lei viene spesso qui? Eh, abiti di fronte. Viene a fare una passeggiata, a prendere un po' d'aria? No, no, hanno fatto un bello servizio. Però, torno a ripetere, ha fatto il servizio bene, però sono stessi soldi nostri. I cittadini? I cittadini! E speriamo che i cittadini capiscono che l'hanno a mantenere come si dà. Capito? Capito?